E ciao a tutti ragazzi, bentornati su MeraMera, io sono Marra e siamo tornati con il nostro classico video bonus del venerdì, anche se è lunedì, perché in realtà questo capitolo è uscito in una maniera un po' strana, è uscito l'altro ieri, ieri è uscito il commento del capitolo, come al solito il nostro commento esce più o meno il giorno dopo che esce il capitolo, ed eccoci qua. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti a leggere i vostri commenti in questa mezz'oretta, vi ricordo che questi video qua si sbloccano solo al raggiungimento di mille like del video prima, quindi del video del commento del capitolo, ovviamente li avete raggiunti, devo alzare l'asticella, ma lo dico da un po', ma è perché è vero, devo alzare l'asticella effettivamente, e direi che possiamo cominciare e iniziamo subito, iniziamo da Andrea che saluto, dice ciao Marra, bello il capitolo, spero solo che ad un certo punto Oda possa tornare sui suoi passi ed uscire con un'ora prima, giusto per avere il quadro della liberazione di York fino alla chiamata del 1089, Saturn disumano come gli altri ten riubito, Kizaru il suo pensiero di rapporto col nipote, tra molte virgolette, davvero splendido. Allora, guarda, io ti dico, a sto punto una cosa che ho pensato, ma anche altri nei commenti hanno detto la stessa cosa, potrebbe anche essere che Oda faccia tanti piccoli flashback, e potrebbe avere iniziato proprio dal capitolo 1090, perché, per esempio, come hanno fatto a spietrificare Frankie e Usopp, era una cosa da far vedere nel flashback grande, se ci fosse un flashback grande, ma a sto punto l'ha fatta vedere in un altro modo, cioè l'ha fatta vedere con un flashback un po' più piccolo, in cui vediamo che Luffy implora S-Snake, quindi magari Oda non farà vedere un mega flashback come tutti ci aspettavamo, ma farà vedere dei piccoli, piccoli flashback, perché comunque alcune cose ce le devono spiegare, soprattutto le cose riguardanti la CP0. Jacopo ci scrive, ciao Marra, al sentire nominare Elbaf o reggito come Luffy e Usopp, uguale, stessa cosa, lo avevi predetto già, ma una conferma è solo piacevole. Sì, alla fine poi, forse io l'ho letta anche un po', come una specie di troll di Oda, perché è come se Oda sapesse anche che il fandom aspetta tantissimo Elbaf, perché è vero, cioè il fandom aspetta Elbaf come Luffy e Usopp, infatti la reazione secondo me non è casuale, e alla fine il loro obiettivo è sempre stato quello di andare ad Elbaf, ma riusciranno ad andarci? Io spero di sì, alla fine sì, l'ho pensato da un po', come tutti gli altri, come moltissimi, e sarei veramente felice di vedere Elbaf, e sicuramente vorrei fare un approfondimento del perché Elbaf è importante e del cosa potremmo vedere a Elbaf. Tutto sommato, lo vedo come un capitolo abbastanza di transizione, sì, carino, ma nulla di wow, il personaggio a cui si riferisce Rufy è 100% Saturn, non borsalina per il mio, tu che ne pensi? Allora Jacopo, si discute tanto di questa cosa da quando è uscito l'ultimo capitolo? Secondo me è Kizaru, perché, proprio come è fatta la scena, cioè la scena è fatta in questo modo, si vede Kizaru che attacca, solo lui è sull'isola, ma proprio solo lui, contando tutti i Marine, contando Saturn, arriva solo lui, il capitolo è, ha il suo nome, si chiama l'ammiraglio Kizaru, e subito dopo che si vede lui che attacca, c'è questa scena di Rufy che è un po' sconvolto, dice qualcuno di veramente forte. Sì, quindi secondo me è Kizaru semplicemente, Saturn a mio parere potrebbe anche essere più forte di un ammiraglio a questo punto, cioè io non mi sorprenderei a vedere i Gorosei più forti di un ammiraglio a questo punto, ci può anche stare, però semplicemente non è ancora sull'isola, ricordiamoci che tutti quanti sono fuori, solo Kizaru è dentro, quindi secondo me è Kizaru, secondo me, proprio per queste cose che ti ho detto. Bellissimo perché vedremo forse uno scontro versus un ammiraglio, e perché forse finalmente Rufy e il Rosso si incontreranno. Vi piacerebbe l'inizio di un'alleanza Kidlow-Rufy-Shanks con il supporto di Vegapunk e i Giganti in preparazione di una guerra a tutto campo. Ho anche pensato una cosa, cosa accadrebbe se Rufy arrivasse sull'isola di Teach e trovasse il nonno incatenato, soprattutto per la presenza di Bonnie che ha il potere di far giovanire il corpo, gli piacerebbe l'aggiunta di un Garp reso Prime e messo a disposizione della famiglia per una volta. Beh, sarebbe veramente assurdo e veramente complicato da gestire, secondo me. Però comunque Oda può gestire il tutto dicendo che certe trasformazioni di Bonnie comunque sono temporane, no, tutte queste cose qui, e magari sì, vedere la trasformazione di Bonnie... Effettivamente Bonnie non ha mai fatto una roba del genere, cioè prendere una vecchia leggenda e farlo tornare al suo Prime. Beh, sarebbe una cosa super, però chi lo sa? Chi lo sa, ragazzi? Chi lo sa? No, non è una cattiva idea, però secondo me è un po' difficile soltanto. Ciao Marra, ti ringrazio come al solito per i contenuti, grazie a voi. Capitolo normalissimo, niente di esaltante, come al solito viene sottolineato il poco acume di Luffy che fa sempre sorridere ogni volta, verissimo. Ma ci viene anche detto cosa la ciurma in realtà vuol fare. Airbuff è una meta che tutti aspettiamo per ottenere delle risposte. Sicuramente ad oggi Oda mostra magari con un flashback cosa è successo durante la fatidica notte precedente, ma non credo che da questa saga possiamo aspettarci grandi cose. Le cose mi sembrano abbastanza chiare e i Mugiwara vogliono scappare insieme alla Stella per una loro nuova meta, dove tutti troveranno risposte, Stella compreso. Secondo me vedremo sicuramente qualche piccolo scontro, ma non so quanto possa dilungarsi questa saga. La morte di Borsalino sarebbe un grande evento e ci vorrebbero molti capitoli. Quando in realtà sicuramente incontrando delle difficoltà, ma una volta creata la password e svegliato il nuovo tradimento di Lucci, non penso che ci sarà una guerra epica, ma una fuga enorme. Rimango dell'idea che più che una morte si scopra qualcosa che sicuramente potrebbe far intervenire Imu con la cancellazione dell'isola, anche se in realtà ci sono degli obiettivi precisi per Saturn e sicuramente un grave incidente potrebbe essere quello di perdere per il governo mondiale tutti gli elementi per una nuova Mother Flame. Secondo me sarà tutta una transizione, compreso Airbuff, dove magari avremmo anche l'incontro con Shanks per poi arrivare ad Acinosu, la vera macro saga di Mugiwara. Ci sono troppi elementi che mi fanno pensare che il grande combattimento sarà lì, piuttosto che nell'isola del One Piece. Volevo chiederti una cosa, infine, cosa ne pensi della teoria che sta girando anche su elementi fondati in parte che si basano su Barba Nera? Mi spiego meglio. Shanks il vero cattivo e Barba Nera è una specie di touch di One Piece. Grazie, come sempre, fai il bravo, fate i bravi anche voi. Allora Andrea, rispondo piano piano a tutto. Allora, per quanto riguarda la questione Egghead, lo sapete, io mi sto schierando a favore di questa saga, secondo me, vedremo un sacco di cose. E certo, l'obiettivo dei Mugi è scappare, però in ogni saga l'obiettivo dei Mugi è molto semplice e poi tutto diventa più complicato. Io vi chiedo, no? Ma secondo voi, Oda, ci può far vedere una saga in cui vediamo Borsalino, vediamo 100 navi della marina, vediamo Saturn e poi loro scappano? Secondo me no. Secondo me, anzi, la figura di Lucci potrebbe essere proprio essenziale per non far avvenire questo, cioè per complicare la situazione. Perché ci deve essere qualcosa, secondo me, che complichi la situazione. E poi comunque, una fuga in generale me l'aspetto in realtà. Me l'aspetto, ma dopo una grande guerra, cioè dopo un grandissimo scontro. Io vi ricordo una cosa. Tra dieci capitoli c'è il capitolo 1100. Dieci capitoli sono pochissimi, cioè succederà veramente poco in dieci capitoli, secondo me. Adesso, secondo me, avremmo una saga simile a Nigashima, cioè ovviamente un po' più corta, perché le parti sono un po' di meno, nel senso ci sono meno personaggi importanti. Perché per esempio nella ciurma di Kaido erano tutti abbastanza importanti, qua abbiamo solo i vice ammiragli, vabbè, abbiamo ovviamente Kizaru, abbiamo... come si chiama, Saturn, però non abbiamo, per esempio, altri alleati di Luffy, cioè della parte dei Mugiwara ci sono solo loro. Quindi secondo me avremmo una grande guerra stile Nigashima. Poi io so benissimo che magari noi possiamo pensare che in questa macro saga solo alla fine ci sarà una grande guerra. Però Oda ha detto che lui vuole disegnare la più grande guerra mai scritta in un manga. Quindi secondo me ci potrebbe stare che ogni singola micro saga, ogni singola isola di questa macro saga abbia un grandissimo scontro. D'altronde, certo, se noi adesso avessimo uno scontro grande ad Eggere, secondo me ce l'avremo proprio pieno, proprio in cui vedremo tutto. Comunque se dovessero cadere i capisaldi, diciamo, della marina in questo frangente qui cadrebbe soltanto Kizaru. Come sapete Kizaru ha anche questo problema, diciamo, del colore, dato che è l'unico colore primario nella terna degli ammiragli adesso. Quindi alla fine la grande guerra contro il governo mondiale viene posticipata comunque. Secondo me avremmo una grande guerra. Potrebbero scappare proprio per l'arrivo di Mother Frame ricaricata, per dire, o Im, per dire. Voi sapete il famoso parallelismo tra Egg ed è l'Arcipelago Sabaudi. L'Arcipelago Sabaudi si conclude con i Mugiwara che vengono spazzati via. Non scappano, ma semplicemente qualcuno li sconfigge, che poi in realtà è Kuma, e li fa scappare di fatto. Prima stavo dicendo anche che tra poco manca, manca veramente poco al capitolo 1100, quindi secondo me nel 1100 potremmo avere, che ne so, qualche alleato che arriva dalla parte di Luffy. Tipo, tipo rivoluzionari. Cioè secondo me i rivoluzionari starebbero benissimo in questa saga. Per questo secondo me ci sarà un mega scontro. Ci sarà un mega scontro. Comunque Shanks il vero cattivo e Barba Nera, ok. Secondo me Barba Nera deve avere uno scontro con Luffy, ma a prescindere che sia cattivo oppure no, Barba Nera ha catturato Ace, quindi già solo per questo lo scontro ci deve essere. Shanks secondo me... Io vedrei male una saga in cui noi magari arriviamo a Elbath e vediamo Shanks che abbraccia Luffy. Cioè lo accoglie tranquillamente. No, secondo me non ha senso perché, appunto, comunque Luffy deve anche dimostrare di essere degno di Joy Boy. Shanks è un pochettino il guardiano del One Piece sotto un certo punto di vista, anche se anche lui lo sta cercando. Quindi secondo me sarebbe un po' strano e quindi è giusto. Shanks come cattivo, nel senso come avversario futuro, secondo me ci può anche stare. A meno che non venga sconfitto prima da qualcun altro. Chi lo sa, chi lo sa. Capitolo abbastanza concreto. I prossimi due o tre capitoli si preannunciano belli pieni. Ora c'è da vedere come Kizaru sarà protagonista in positivo o negativo. Mi è piaciuto lo scambio tra lui e Saturn perché ci dà finalmente qualche info in più su un personaggio finora un po' marginale. Spero che l'energia del nemico potente in arrivo che ha sentito Luffy sia quella di Saturn. Forse ancora troppo presto, ma sarebbe una bella svolta. Credo che il combattimento vero verrà comunque rimandato e riusciranno a scappare ad Elbaf. Ho risposto praticamente già tutto durante il video. Comunque, sì, secondo me il combattimento ci sarà. Almeno Kizaru deve cadere, secondo me, in questa saga. Fidatevi che Oda, alla fine Oda, sa che così non le fa. Cioè se fa vedere tutto questo schieramento, la guerra ci deve essere. Anche la fuga non è una roba da One Piece, secondo me, una fuga così. E basta, solo una fuga senza scontri fighi. E anche qui per quanto riguarda Saturn, secondo me, è Kizaru proprio per come è stata fatta vedere la scena. Vitto, che lo saluto, è sempre presente. Un saluto a Marra e alla community arancione. Bella, la community arancione mi piace, bella bella. Wow, non sapevo uscisse il capitolo questa settimana, non dovevo uscire infatti. E poi mi sono sorti due domande alla quale magari saprei rispondermi. La prima è, ma quanto è davvero forte Sentomaru per voler affrontare Kizaru? Sentomaru, ricordo ragazzi, che comunque è fortissimo. E anche all'arcipelago Savaudi è forte, non è stato battuto. E in più nei due anni di Timeskip è diventato anche importante nella marina. Quindi è la guardia del corpo di Vegapunk che comunque a livello di isole si trova bello in là, nel nuovo mondo. Quindi, cioè, possiamo anche ridurre che sia abbastanza forte. Certo, contro Kizaru secondo me perde proprio la grande. Però, secondo me, ha un bell'aki dell'armatura. È stato uno dei primi che l'ha fatto vedere. Insomma, quindi secondo me è forte. Forte, almeno per quanto riguarda la difesa. E la seconda è, ma questo astro di saggezza ha davvero chiesto a Kizaru, l'ammiraglio più pigro di usare la velocità per entrare nel laboratorio da solo contro una ciurma di Yonko? Sì, perché comunque è pigro, ma appunto il potere, il frutto di Kizaru potrebbe essere una bella soluzione per il rompere lì, nella cupola, diciamo, che ha messo su York, che dovrebbe essere invalicabile, ma in realtà lui può farlo perché è un uomo di luce, e potrebbe cambiare la situazione. Secondo me, in questo momento proprio serve, come ho detto anche nel video, un qualcosa che arrivi e rompa un po' tutto, cioè che sia un punto di rottura nel piano dei Mugi, perché appunto questo piano che loro vogliono scappare, mi sa proprio... È troppo semplice, no? È troppo semplice, perché Oda ci fa vedere, questo schieramento ci fa vedere per la prima volta un Gorosei che se ne va via da Mary Joa, si fa vedere un ammiraglio che è pronto a combattere e poi ci risolve la saga scappando? Non credo, quindi secondo me appunto ora serve questo punto di rottura, che potrebbe essere o Kizaru col suo potere o Luci, anche Luci, vabbè Luci forse è il più sospetto in assoluto. Ciao Marra, per me il capitolo è carino, ma se quella persona che dice Luffy non sia Kizaru ma Saturn, speriamo tanto per il prossimo capitolo. Allora, vabbè, ve l'ho già detto ragazzi, ve l'ho già detto, per me è Kizaru. Poi tra l'altro, ecco, non sottovalutiamo gli ammiragli, e ragazzi non li sottovalutiamo, perché adesso, secondo me, vedendo quello che è successo con Aramaki, quindi con Ryukugyu a Uano, ora gli ammiragli sono un po' sottovalutati dalla community, non lo facciamo ragazzi, veramente, perché fidatevi che gli ammiragli sono comunque gli ammiragli, cioè restano gli ammiragli. Magari, ecco, voglio fare un video proprio che parla della forza degli ammiragli e della forza dei personaggi, perché se ne parla tanto, io non lo faccio mai, ma ci sta a farlo, secondo me. È un capitolo davvero bello, chiarisce molte cose e fa finalmente iniziare lo scontro. È plausibile che durante la notte i Vegapunk abbiano assistito la ciurma, rinchiudendo i Seraphim nelle bolle. Bonnie abbia visto tutti i ricordi di Kuma e abbia capito la situazione, e che tutti insieme abbiano assaltato gli orchi intrappolandola. Sì, verosimilmente è successo questo. Molto interessanti i piccoli approfondimenti sui Seraphim, come S-Snake che impara ad utilizzare il suo frutto. Sono davvero contento che Lucci stia facendo il doppio gioco. Un villain all'interno è molto figo ed è bello che non si discosti comunque dalla sua missione e dai suoi interessi. Sono d'accordo, vedere Lucci alleato al 100% è una roba un po' strana, secondo me. Sono anche stupito da Kizaru di come affrontare un uomo che vuole adempire i suoi doveri sia per lui un ideale davvero molto bello e mi fa piacere scoprire un po' di più di questo ammiraglio. Forse perché verrà sconfitto, sì. Anche secondo me. Credo che nel momento in cui la cupola cadrà i marini si inizieranno l'assalto e Saturn... no scuola, e durante la fuga ci saranno gli scontri di rilevanza. Credo che Saturn combatta con Rufi e nessuno dei due vincerà. Kizaru e vice-ammiragli cadranno, York verrà uccisa e riusciranno a fuggire. Bene, almeno c'è qualcuno d'accordo con me degli scontri, dai. Ci sta, comunque. Ciao Marra, capitolo bomba, a mio parere, quello che mi ha fatto sorridere è che la nuova destinazione in pratica la decide Vegap. Anche noi capitano, vabbè. Come sempre, tanto Luffy credo non abbia mai deciso effettivamente una destinazione. Se no, forse, vabbè, quando è successo il casino con Sanji, eccetera, eccetera. Molto curiosa come cosa. Inoltre non riesco a capacitarmi del fatto che Sentomaru, nella prima parte della saga di Egghead, le prende di santa ragione da Luffy, e poi in questo capitolo riesce a fermare un attacco di Kizaru. La chi dell'armatura, o con cosa, secondo te? La chi dell'armatura. Sentomaru è confermato che abbia la chi dell'armatura, quindi l'ha fermato per quello. Cioè a dire che comunque Luffy è velocissimo. Luffy è velocissimo, non come Kizaru, però poi quello di Luffy è stato anche un colpo, diciamo, un po' infame, quindi non se ne è neanche accorto. Invece Sentomaru in questo caso se l'aspettava tantissimo. Quindi ci sta, secondo me. Comunque sì, a chi dell'armatura. Egghead durerà poco. Non credo. Vabbè, mi piace molto la tua teoria che vedrebbe Lafitte e Morgans come la stessa persona. No, non è la mia teoria, però è una teoria che hanno scritto diverse volte e l'ho analizzata. Non mi piace più di tanto, sinceramente, però può anche essere. Credo sia proprio di Morgans che l'hanno vista vicino ad Egghead, infatti Lafitte non è la Cinosu. Forse non è la Cinosu, eh. Luca, adesso vediamo. Perché per adesso Oda non ha ancora scoperto tutte le carte. Questo può accelerare in qualche modo l'ingresso in ciurma di Vivi. E Morgans potrebbe trattare con il Gorosei la liberazione di Garp. So che non ci sono molte basi, ma secondo me potrebbe andare così. Curioso di vedere come Kizaru fronterà Sentovaru. Chiaramente sono tutti sacrificabili per i Gorosei. Vabbè, certo, certo. Anche uno come Kizaru, secondo me, è sacrificabile per un Gorosei. Finalmente vedremo mio padre Kizaru in azione. Come la prenderà Rufi? Avrà superato il trauma? Saturn pare non prenderà parte allo scontro. Peccato. Ciao, Marra. Ragazzi. Tranquilli, tranquilli. Saturn pare non prenderà lo scontro. Tranquilli, tranquilli, ragazzi. Solo che Kizaru è entrato nell'isola. Ci sono 100 navi al di fuori. Ci sarà un qualche punto di rottura che eviterà, diciamo così, la fuga dei Mugioara e di Vegapunk. Quindi tranquilli. Non è che Oda, secondo me, non prende Saturn, ce lo fa spostare e poi non ci fa vedere niente. Stiamo sereni. Stiamo sereni che questa saga, ecco, anche lì l'egge durerà poco. Ragazzi, stiamo proprio rilassati, godiamoci Egged, che secondo me per un paio di anni ce l'abbiamo ancora. Vabbè, vedrai. Almeno un anno ancora di Egged c'è. Sicuro, sì, sicuro. Comunque stiamo proprio rilassati. Robin e Kaku feriti. I go rosei rispetteranno l'accordo con York per la Mother Flame. ACP in debito con Luffy. Morgans sempre sul pezzo. Luffy sente Kizaru. In conseguenza della vignetta precedente, Saturn è ancora il paccione, certo. Però anche lì, Saturn, ragazzi. Arriva, arriva. Ciao Marra, capitolo non spettacolare, ma molto interessante lo stesso. Mi sembrerebbe ovvio che le informazioni passate dalla luce alla marina non siano sintomo di tradimento nei confronti dei Mugiwara. Quindi sono abbastanza tranquillo aspettando il flashback che ci mostri cosa è accaduto prima. Però comunque, ecco, interrompo a metà, perché Oda sta già iniziando a mettere un pochettino il seme del dubbio ancora prima di Kizaru che ha dato le informazioni a Saturn. Perché c'è questa scena di Lucci che sembra parlare da solo. E Kaku quindi gli chiede cosa sta dicendo. Niente, non sto facendo niente. Quindi, chi lo sa, starà comunicando? Con magari un lumacofono, starà pensando tra stesse cosa fare? Chi lo sa, chi lo sa. E poi, comunque, vi ricordo che Lucci è veramente una macchina da guerra, ha cresciuto apposta per essere un assassino. Io non so se lo vedrei bene come alleato, eh. Dal titolo del capitolo riusciamo a capire l'importanza che sta per assumere Kizaru. Inoltre, forse è sembrato solo a me, Kizaru mi è apparso diverso dal solito in questo capitolo. Come se Oda stesse iniziando a renderci Kizaru un personaggio a cui noi fan presto inizieremo ad afferzionarci. Forse sì, forse sì. Forse vedremo qualche flashback di Kizaru da giovane. Ci ho pensato anche per la presenza di Sentomaru. Ad esempio, passa ad essere disinteressato a tutto. Ha interessato per le vite degli altri marine. Soprattutto Sentomaru. Forse è troppo provare a prevedere la sua morte, non per mano di qualche Mugiwara, ma magari per mano di Saturn nel momento in cui Kizaru si rifiutasse di combattere contro Sentomaru o di fare qualcosa del genere. Ci sta, contando che i Mugiwara spesso e volentieri evitano di uccidere, quindi ci potrebbe stare. In questo caso l'incidente di Egghead sarebbe un modo per incolpare i Mugiwara della morte di un ammiraglio, nonostante l'uccisore sia un Gorosei. Magari in futuro avremo uno dei soliti flashback di Oda, dove vedremo il passato commovente di Kizaru, con conseguenti migliaia di video edit su TikTok. Verissimo. Con questo capitolo abbiamo la conferma definitiva, o almeno spero, che rimarremo definitivamente a fianco di Mugiwara per un bel pezzo. Sì, sì, sì. Ormai gli intermezzi, diciamo, esterni li abbiamo visti, li abbiamo visto tantissimo. Quindi, ragazzi, incredibile. Secondo me adesso ci sta a fermarci un po' con i Mugi. Alla fine Robin non era sparita, giusto? Ma era fuori dall'inquadratura, come avevi detto. Ciao e fate i bravi, fate i bravi, ragazzi. Grazie per il commento. Dubito fortemente che Lu ci abbia tradito. Sento che sta collaborando. Invece, non so perché, ho l'idea che Vegapunk possa morire. Ma uno dei Vegapunk, seguirli. Forse Lilith, perché Lilith è quella che Oda sta cercando di farci affezionare un po' di più rispetto, per esempio, al Vegapunk principale. Chi lo sa? Perché avere Vegapunk sarebbe quasi come leggere il diario di Oden. Sa troppe cose, non credo farebbe così bene a Mugiwara. Potrebbe quasi sacrificarsi. Amo come Oda stia correndo, cioè tagliando delle parti inutili e al contempo sta regalando un sacco di vignette che ben caratterizzano i personaggi. Bellissimo capitolo. Grazie Marco. Più che altro è una domanda. Per sapere tu cosa ne pensi. La ciurma ha molti legami con Airbuff. Cresta però un territorio del rosso. E poi c'è la questione Kid. Come pensi verranno accolti? Allora, io vi dico come la penso proprio sinceramente di questo fatto qua. Sinceramente io credo che Oda farà il paraculo, come sempre. E io vi chiedo, no? Pensiamo a Shanks. Tutte le volte che lo vediamo è sempre in un posto diverso. E lui comunque ha questa indole Noda quasi vagabondo, no? Che va in giro. Poi ovviamente sembra che la sua base sia Elbuff, ma perché? Perché ci sono gli altri membri della flotta. E quindi secondo me un posto in cui la flotta stia, almeno per stare tutti insieme, ci deve essere. Quello potrebbe essere Elbuff. Secondo me Oda può fare il furbo e far andare in Mughili e Shanks non c'è. Tranquillamente? Cioè potrebbe farlo tranquillamente. Contando quello che dice. Cioè l'ultima volta che lo vediamo dice Ah ragazzi siamo stati troppo qua. Adesso mi sono distratto, dobbiamo andare. Ok? Quindi secondo me anche per quella roba lì. La questione Kid. Kid a mio parere ragazzi non è morto. Perché comunque sapete, vabbè, Oda. Veramente è difficile che uccida qualcuno. A volte fa vedere delle scene proprio di morte totale. In cui proprio c'è sempre che devi solo vedere più la bara del personaggio. E poi nella mini avventura, penso ovviamente al padre di Rebecca. Vedi che quel personaggio è vivo. Magari una mini avventura riguardante Kid. Kid non lo so. Però secondo me si sono salvati in qualche modo. In qualche modo si sono salvati. Non credo sia morto così. E magari li rincontreranno proprio a Elbaf. Ah quindi è uscito. Ovviamente ho causato confusione con questo post. perché l'ho fatto uscire quando ancora il capitolo almeno tradotto abbastanza bene non era uscito. Quindi sì, scusate ma... Comunque trovate il link dei capitoli sempre sul gruppo Telegram. Lo sapevate? Credo di sì, ma entrate sul gruppo Telegram lo stesso. Mi piace un sacco. Rufi, solito spaccone. Qualcuno di voi ha capito se Lu ci sta aiutando davvero i mughi o no? Le informazioni che dà sono un po' vere e un po' false a giudicare dalle traduzioni. Allora, non si capisce. Non si capisce. Ci sono due scuole di pensiero da quello che vedo nei commenti. O effettivamente sta collaborando con i Marines, quindi è fedele alla sua indole, a quello che è stata anche la sua educazione. Oppure sta facendo il triplo gioco, cioè sta dando delle informazioni alla marina, ma magari sono false per depistarli, per provare a scappare. Chi lo sa. Però sarebbe bello vedere un incontro tra Lufi e il rosso Elbaf. Anche se vedere il rosso ora sarebbe un buon indizio per un'alleanza con il capello di paglia per combattere contro Tic. O Igor Osei, ok. E allora, già, io ripeto quello che ho detto prima. Cioè, secondo me, vedere Shanks che si allea con Lufi, che lo accoglie, non lo mette neanche alla prova, a me farebbe storcere sinceramente il naso. Vi dico la verità. È così. Per me. Ok, Roplucci, buscetta. Bellissimo. A parte questo vorrei capire perché Robin e Kaku sono così tanto feriti. E che cosa è successo a Bonnie? Allora, per Kaku e Robin, ora potrebbe anche dire, vabbè, hanno combattuto, fine. Per Bonnie, Bonnie è diverso, perché Bonnie invece è più... Cioè, non è un qualcosa che cambia a livello fisico, quindi è stata ferita, vabbè, la puoi spiegare tranquillamente. No, Bonnie ha avuto un cambiamento proprio mentale, no? Quindi, sì, anch'io sono curioso per Bonnie. Per il futuro mi aspetto un mega scontro, Kizaru contro Sanji, Zoro e Jimbe, addirittura Jimbe. Io, va bene anche Zoro e Sanji. Mentre Lufi si scontra con Satun, certo. Se non dovesse essere così, allora credo che non ci sia un vero scontro, ma solo una fuga verso Elbaf. Ok. Ciao Marra. Capitolo veramente intenso. Finalmente si è tornati con il botto ad Egged. Lufi, nonostante abbia davanti uno dei membri più alti del governo, dimostra di avere un coraggio assurdo e dichiara sia l'idea di voler diventare re dei pirati e quasi rileva i dettagli di tutte le cose stesse, andando a muso duro contro il governo. Il discorso fra Kizaru e Satun fa capire come funziona la giustizia dal punto di vista di entrambi. È notato l'uguaglianza di pensiero tra Satun e Fagerland. Sì, infatti entrambi sono dei draghi celesti sugli esseri umani. Mizzaro valore alla vita umana, mentre Kizaru, come al solito, segue gli ordini, lasciando da parte i sentimenti e le emozioni, tra parenti di Sentomaru. La prossima destinazione di Mugiwara sarà Elbaf, quindi sperando non ci siano altri incidenti di percorso, conoscendo Oda, molto probabilmente Shanks non sarà lì quando Lufi arriverà sull'isola. La pensiamo più o meno in modo simile. E non saprei nemmeno se possa essere accolto bene o meno dai giganti stessi. Luchi è molto sus in questo capitolo. Cosa starà architettando? E comunque i Gorose e i Kizaru sanno tutti i dettagli sull'isola. Come proteggere, cosa proteggere e cosa distruggere. Motherflame, York e Punk Records. Questo mi fa pensare che l'isola non verrà mai distrutta del tutto. Che i Mugiwara in qualche modo riusciranno a scappare con i Vegapunk rimasti. Meno male che se si uccide i Vegapunk, i altri non muoiono. Anche se mi spiace per Shaka e l'altro non ricordo il nome. Ed è il curioso come Lilith dica che non è mai stata nel mondo esterno. Il mini scontro che abbiamo tra Sentomaru e Kizaru all'inizio della battaglia. E fa riflettere, dato che Sentomaru stesso viene aperto da Luchi, ma riesce a bloccare Kizaru. Boh, ha chi d'armatura? Commento uguale a prima, quindi sì, secondo me sì, ha chi d'armatura. Sì, prima che ci viene interrotta per fermare Iroja, però, boh, non so. Luffy, a fine capitolo, usando l'haki, individua Kizaru o Saturn. Kizaru, secondo me, sarebbe curioso se fosse Saturn, perché a ripire se è veramente forte o meno. Ci sarà tempo per capire se è veramente forte o meno Saturn, ancora abbiamo tempo, ragazzi, secondo me. Adesso lui è ancora seduto, lì tranquillo, fatelo rilassare e poi lo vedremo. Ciao Malra, bel capitolo in cui finalmente viene chiarito il potere di Kizaru. Infatti, come vediamo, si muove alla velocità della luce, ma sfruttando i riflessi. Sì, e infatti l'aveva già fatta una mossa del genere, all'arcipelago Stavodi, mi sembra. In pratica sembra che lui si muova come la luce nei cavi di fibra ottica. Questo spiega perché non può spostarsi dall'isola all'altra, essendoci il mare in mezzo. Beh, ci sta. Spero sia chiaro, il mio ragionamento è chiaro e ci sta anche, tra l'altro. Leggo l'ultimo commento, perché poi, ragazzi, siamo arrivati alla nostra mezz'ora canonica. Penso che lo scontro con Kizaru non solo sia inevitabile, ma ritengo che sia arrivato il momento di far cadere qualche ammiraglio dopo gli imperatori. Sono d'accordissimo, d'accordissimo. Spero che Oda non faccia qualche scherzetto facendo perdere i Mugiwara. Chi lo sa. Magari non perdere, magari saranno costrette la fuga. Non contro Kizaru, attenzione, perché qua in questa saga non abbiamo solo Kizaru, abbiamo anche un Gorosei. Chi lo sa. Comunque ci sta quello che dici tu, perché noi piano piano stiamo facendo cadere, anzi Mugiwara stanno facendo cadere varie tessere, diciamo, del mondo pirata, no? Quindi Kaido, Big Mamo, ovviamente, sono le più grandi. Ma la marina, non vogliamo iniziare a far cadere qualcuno? Secondo me l'ammiraglio sarebbe proprio perfetto per questa cosa qui. Allora ragazzi, io direi di concludere questo video. Scusate se non ho letto il vostro commento, come sapete io vado avanti mezz'ora e poi ci stoppiamo. Comunque ringrazio tutti quelli che hanno commentato come al solito, ringrazio quelli che commentano qua sotto su YouTube, ringrazio i ragazzi che scrivono sul gruppo Telegram tutti i giorni, tutto il giorno, quindi bella lì ragazzi. Sono contento di avere una community del genere. Vi ricordo un'ultima cosa, se andate su Instagram trovate dei dati riguardanti il fantacalcio di Mera Mera, che è la Mera Mera League. Chi è fan, diciamo, da più di due anni sa che cos'è la Mera Mera League, sa che comunque è una competizione che stiamo portando avanti. Questa è la terza edizione, tra l'altro, mi sembra. Avete tempo fino a giovedì per entrare. E niente, ragazzi, io vi saluto, fate i bravi, ma già ve l'han detto gli altri nei commenti. E niente, ci vediamo prestissimo con altri contenuti di One Piece. Domani è ferragosto, quindi domani niente video, perché poi io li faccio. E poi voi non me li guardate, giustamente, perché poi siamo tutti in ferie. Quindi ragazzi, fate i bravi, di nuovo, e ciao a tutti. Ciao.